Con i colori della New Drivers Team, Chantre Grimaldi, numero uno. Con il numero di linea diciannovesima, la vittoria assoluta che, lo ricordiamo, andrà a premiare il Memorial Livio Pausano, mentre per il primo equipaggio Cannabesano è in pa... ...procediato. Tra le altre cose, dobbiamo ricordare che domani si scoda Fabia, anche loro, con i colori della New Drivers Team. E andiamo con il numero 8, Angelo Molino, Alessandro Rossello, Gelfi e Rogeris, scoda Fabia, 107, le vetture che hanno verificato quest'oggi. Grazie, grazie, buona serata. Abbiamo del piacere di avere, mi dicono, anche il sindaco di Cognier, che inviteremo qui in Cognier. Giovanna Cresto, allora. Sì, sì, sì. Un'altra vettura del... Un'altra vettura del... Oltre 20, ma forse sono 25 le R5. Ma ricordiamo, tra le altre cose, i notiziari. Un'altra... Un'altra... Un'altra da la sopra, un'altra da 30. Sì. Un'altra da la sopra, un'altra da 30. Rimandiamo in classe... Un'altra da... Un'altra da... ciao vi ricordiamo i vari notiziali intanto la diretta web sulla pagina ciao bene ciao ragazzi in bocca al lupo un altro equipaggio dei nostri ciao ragazzi ciao le vetture adesso ciao portiamo cordialmente grazie grazie sei unico sei unico ciao 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 A domani E noi torniamo intanto in casa Citroen, una C2 Ciao 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 Siete 600 numero 111 Loro Siete 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 Siete